Hai sentito quello che ho sentito io? Leone, la rossi sono bacia! Basta, 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 nata, non puoi metterti a gridare, non voglio che si sappia! Chi vuoi chiamare? Non ha alcuna importanza, va a prendermi un po' d'acqua, ho bisogno di idratare le mie corde vocali, vai! Mi fa male la schiena. Ah beh, ma che fiacche che sono gli uomini ultimamente! Cos'hai fatto, Marco? Come? Ho portato tutti gli stu...